Credo che saranno quattro storie di successo e l'augurio rivolto dal vice direttore generale di Unicredit Paolo Fiorentino alle quattro start-up che accederanno al primo programma Fintech Accelerator, selezionati da una commissione interna alla banca tra 120 imprese partecipanti. Il programma Fintech fa parte delle iniziative di Unicredit Start Lab a sostegno del lancio di realtà imprenditoriali neonate e innovative e si rivolge in particolare al settore dello sviluppo di prodotti e servizi applicabili al business finanziario, cioè al mondo bancario assicurativo. Credo che in questo momento l'innovazione sia vitale per tutte le industrie, anche per la nostra, e che sia altrettanto importante dare un segno tangibile ai giovani e ai giovani di talento che c'è una modalità nella quale possono essere sostenuti e quindi che possono guardarsi intorno e non necessariamente trovare il vuoto. È uno dei contributi concreti che Unicredit cerca di dare al tema dell'innovazione, ha spiegato Fiorentino durante la presentazione delle quattro aziende selezionate. Sostengo che il nostro business stia diventando sempre più ad alta concentrazione di tecnologia. Effettivamente la base della relazione anche, la percezione e la qualità dei nostri clienti rispetto ai nostri prodotti e alle nostre offerte passa attraverso la tenuta della nostra tecnologia. In più i nostri clienti oramai sono sempre più tecnologici. Delle quattro aziende selezionate, due sono Lombarde, Quantai e Social Bullgard. Una è la friuliana Cuocchi e l'altra la laziale Wallet Saver. Ad esse Unicredit offre ora uno spazio di lavoro in comune creato all'interno di una ex sede di ufficio della banca. Un intenso programma di accelerazione che prevede attività formative di mentoring, un network di potenziali clienti corporate e un premio di 10.000 euro. In cambio, la banca ottiene la possibilità di testare le soluzioni proposte dalle start-up per un periodo di 12 mesi in un'ottica di scambio e contaminazione, come ha spiegato il CEO di Unicredit Massimo Milanta. All'interno di un programma più ampio che noi abbiamo lanciato a supporto dell'innovazione in Italia, che è Unicredit Starlab, abbiamo pensato di focalizzarci con questo programma specifico sulle aziende che sono più vicine al nostro business, perché la banca è sostanzialmente un business tecnologico.